Salve, sono il baro della Sani Moreno con Svaghe Audi dei Fucecchi. Oggi vi presento la nuova arrivata nel nostro parco vetture usate. Si tratta di questa bella Fiat 500X ed è, attenzione, un 1.013 cilindrata turbodiesel multijet 95 cavalli dell'anno 2018, allestimento Popstar. Adesso andiamo anche a vedere lo stato d'uso della carrozzeria esterna, di questo bel colore grigio scuro, antracite, così detto, sempre molto bello, brillante e come potete vedere si presenta sempre in un modo veramente eccellente. Qualche piccolezza da macchina usata ma comunque sempre veramente molto molto bella. Andiamo adesso a vedere i particolari della nostra auto, partendo dal bagagliaio. Bello, ampio, pulito perché anche questo è stato lavato e vi faremo vedere in seguito la sua lavorazione. Con i suoi sedili sdoppiati, sotto il pannellino abbiamo tutta l'attrezzatura, con il compressore e la bombolettina per la ruota di scorta. Cerchi in lega da 16 pollici abbinati alle sue gomme, sempre veramente ottime e quindi ancora tutte da sfruttare. Internamente partiamo con gli interruttori dei quattro vetri elettrici e là è l'interruttore per la regolazione esterna degli specchietti e passiamo a vedere anche la nostra tappezzeria che come potete vedere si presenta in un modo veramente veramente eccellente, bella, pulita, non ci sono strappi, non ci sono usure, non ci sono buchi di sigarette anche perché il precedente utilizzatore non fumava. Come il nostro solito la tappezzeria è stata lavata, igienizzata a vapore, con questa lavorazione specifica. Il risultato è l'avere un interno vettura veramente eccellente, quindi bello, pulito, profumato, un'accoglienza spettacolare del nostro abitacolo interno. Adesso vediamo le caratteristiche della nostra vettura. Partendo dal cambio, è un manuale a cinque marce, doppia presa usb, climatizzatore manuale, mentre sul display centrale abbiamo tutte le nostre funzioni. dall'autoradio al telefono bluetooth, l'altra impostazione per connettere il nostro cellulare, le varie impostazioni per modificare e il computerino di bordo, quindi una vettura completa anche sotto questo punto di vista. Passiamo al volante, è un volante multifunzione rivestito in pelle, sulla destra abbiamo gli interruttori del cruise control, sulla sinistra l'interruttore per la regolazione dell'autoradio e del bluetooth con anche il comando vocale molto importante per non togliere mai lo sguardo dalla strada. Passiamo al chilometraggio, solamente 106.600 chilometri, con ultima manutenzione, come potete vedere, fatta a 98.235 chilometri nel maggio 2021, quindi una vettura veramente controllata anche meccanicamente. Andiamo a guardare anche il nostro automotore. Anche questo si presenta veramente in un ottimo strato, bello pulito, con tutti i suoi componenti al loro posto, a partire dalle plastiche, connessioni elettriche, tubini, quindi una vettura ancora tutta da sfruttare. Infatti, prima di essere messe in vendita, le nostre auto usate vengono sottoposte ad un accurato controllo presso il nostro service. Come? Seguendo la nostra checklist multicontrollo interna, sono praticamente 110 punti da verificare affinché la vettura sia completamente funzionante, quindi affidabile. Dopodiché ci viene abbinato 12 mesi di garanzia, come prescrivere la legge, con possibilità per il cliente di fare un'estensione fino a 24 mesi, possibilità anche di pagamenti rateali personalizzati che vi saranno spiegati in sede nel caso ce ne fosse il bisogno. E a questo punto andiamo anche a fare un giro di prova su strada, quindi salite in macchina insieme a me. Nel salire sulla nostra vettura la prima cosa che notiamo infatti è proprio l'accoglienza dell'abitacolo, la pulizia, la profumosità. A cosa serve il nostro giro di prova? Serve a capire il funzionamento generale della nostra auto. E quindi io che sto guidando, la prima cosa che mi viene da notare è che è la frizione. Bella, morbida, con un ottimo stacco. Ed anche il cambio lo sento bello, preciso, senza nessun tipo di gioco, innesti precisi e morbidi. Assetto stradale ottimo perché la vettura va veramente dritta su strada. E la scatola di sterzo che in questi incroci la dobbiamo girare parecchio, quindi sollecitare, la sento leggera, precisa, senza nessun tipo di gioco. Quindi guidabilità generale veramente ottima. Andiamo a testare le nostre sospensioni nella classica strada con le buche. Ebbene, sentiamo sì il loro lavoro, ma all'interno dell'abitacolo non sentiamo nessun rumore, veramente silenzioso. Quindi anche loro fanno il loro ottimo lavoro. Completamente funzionante perché è già controllata, quindi pronta per essere acquistata e quindi pronta da guidare. Una cosa importante se abitate lontano dal nostro punto vendita. Possiamo prendere un appuntamento telefonico e con una videochiamata presentarvi e spiegarvi dettagliatamente tutta la vettura. Pregi e difetti affinché quando deciderete di venire personalmente la vettura la conoscete già. Basterà solo riguardarla insieme e naturalmente provarla su strada che è la cosa principale e molto importante. Anche il motore, passando alla meccanica, ha un bel tiro. Essendo il 1.3 Multijet 95 cavalli. Turbo. Quindi, ripeto, guidabilità generale ottima, visibilità ottima perché abbiamo la guida rialzata. Dopo queste notizie torniamo al nostro punto di partenza per le ultime informazioni. Vi invitiamo a visitare il nostro sito diretto autosani.it dove troverete tutte le informazioni più dettagliate sulla vettura che abbiamo appena visto. Troverete naturalmente anche il prezzo. Seguiteci poi sui social Facebook, Instagram, al nostro indirizzo sanimorenosrl. Grazie per l'attenzione. Vi invitiamo a venire personalmente presso il nostro punto vendita di Fucecchio oppure a telefonare ai nostri numeri. Vi sarà comunque risposto a tutte le vostre domande. Un grazie ancora e, come diciamo sempre, alla prossima vettura.